E' stato condannato all'ergastolo in via definitiva Sebastiano Onirta. La motivazione? Accusa di omicidio pluriaggravato e detenzioni e porti di armi comuni da sparo in concorso nell'ambito della strage di Duisburg che ha segnato, per quanto sostenuto agli inquirenti, l'apice della faida di San Luca. A decidere la seconda sezione penale della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dai difensori, i quali avevano chiesto l'annullamento della sentenza emersa dalla Corte d'Appello di Raggio Calabria. Sebastiano Onirta, lo ricordiamo, era stato arrestato nel febbraio del 2010 nell'ambito dell'operazione Feida 3 e Duisburg 2 eseguita dalla Polizia di Stato e coordinata da DDA Regina. Sebastiano Onirta, nella sentenza d'Appello bis, è stato riconosciuto colpevole della strage di Duisburg. Le motivazioni evidenziano come il quadro indiziario raccolto a carico di Sebastiano Onirta si compone di una pluralità di elementi che, unitariamente e sinergicamente intesi, convincono, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sua partecipazione efficiente alla fase di preparazione a quella esecutiva dell'eccidio. Ricorso poi respinto, determinando in via definitiva la condanna all'ergastolo delle 41enne appartenente alla famiglia denominata Nirta Verso. Con la decisione della Cassazione, Nirta è il secondo imputato condennato in via definitiva per la strage di Duisburg insieme a Giovanni Strangio.